Questo festival è organizzato dall'Unione di Mercogliano, dall'Assessore della Cultura, attraverso l'Assessore Lucia Spresce, per ringraziare il più presente, e dalla Regione Campania, finanziamento del Programma per la Comunità. È una rassegna che è partita il 15 dicembre e terminerà il 5 maggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.